A lezione di giornalismo televisivo e comunicazione, non un appuntamento in aula ma la sperimentazione sul campo. A metterle in pratica più di 40 studenti delle scuole medie, metà dei quali provenienti da quattro paesi europei, Spagna, Polonia, Romania e Turchia. Sono stati loro gli attenti uditori nel corso della visita agli studi televisivi della redazione di Teleregione, accolti e accompagnati dal direttore responsabile dell'informazione della nostra emittente, Salvatore Petrarolo. Quella barletta per gli studenti del progetto Erasmus, dedicato alla fotografia, che vede l'istituto comprensivo di Margherita di Savoia, capofila dello stesso progetto, è stata una delle tappe in questa lunga settimana di incontri e confronti con gli studenti italiani. Non solo la festa in occasione dell'accoglienza di studenti e alunni stranieri, ma anche escursioni come quella ad Alberobello, Castel del Monte e Trani, quest'ultima candidata a Capitale della Cultura Italiana per il 2021. La visita negli studi televisivi ha rappresentato un altro momento di approfondimento per tutti gli alunni che partecipano all'Erasmus. Scoprire e vedere da vicino come si realizza una produzione, che sia di informazione e di intrattenimento. Quelle strumentazioni vengano utilizzate, in quelli luoghi vengano registrate o trasmesse in diretta, ha catturato l'attenzione non solo dei giovani studenti, ma anche degli insegnanti responsabili del progetto. La foto ricordo al termine della visita negli studi di Teleregione entrerà di diritto nell'album dei ricordi di questa settimana dal forte profumo europeo.